Avviato oggi a Benevento il primo seminario di INCONTRA, ovvero innovazione, conoscenze e trasformazione digitale organizzato da piccole industrie di Confindustria Benevento e Università degli Studi del Sannio. Sicurezza informatica come metterla in atto, il tema del primo incontro affollato che si è tenuto nella sala lettura del Dipartimento DEM del Palazzo di Simone. Nella nostra mission c'è l'arricchimento della cultura di impresa. L'importante è che noi trasmettiamo cultura di impresa e soprattutto dobbiamo trasmettere al nuovo management di completare la nostra missione, cioè quella di contrastare lo spopolamento. Fondamentale la collaborazione tra il mondo del lavoro e l'università. Creare un ponte stretto diretto fra il mondo della formazione, l'università e il mondo del lavoro, favorendo due fenomeni che sono entrambi positivi. Da un lato offrire occasioni concrete ai nostri giovani di trovare lavoro qui nel Sannio, dall'altro quello di offrire alle aziende l'opportunità di innovare i loro processi e i loro prodotti attingendo alle competenze che l'università mette a fuoco. Imprese quotidianamente a rischio a causa di tantissimi metodi che utilizzano gli hacker per entrare fraudulentemente nei sistemi informatici. I dati non sono qualcosa di etereo che non sta da nessuna parte ma stanno su dei server, su dei computer. Noi non lasceremmo le chiavi di casa o le chiavi dell'azienda davanti alla porta ma spesso facciamo così con le credenziali di accesso.